Era davvero difficile in settimana, una cena chiarificatrice tra il presidente Aliberti, il DS Longo e il giovane tecnico Pioli. I risultati si sono visti, vittoria preziosissima all'Azzurri d'Italia di Bergamo contro l'Albino Leffe, tre punti importantissimi. Iranata non vincevano in trasferta dalla gara contro il Torino al delle Alpi quando in rete andò Boggedani. Gol stagionale, primo di Camorani lo vediamo festeggiare, gol nato sul finire del primo tempo al 44esimo dopo una bellissima azione tra Bombardini, schierato dal primo minuto e l'Ai. Autore di una buona prova Bombardini che ha sostituito lo squalificato di vicino. L'Albino Leffe si è poi reso pericoloso in più occasioni ma non è stato mai preciso nelle conclusioni. Quando lo è stato ha trovato sulla sua strada un Botticella in formato super come avete visto in questa parata. L'importante era rifarsi dopo due sconfitte consecutive, alla Salenitana guarda davanti con fiducia alle prossime due gare interne sempre alla Reiki. E ora con Mino Farolfi il servizio super...